Se lei mi fa le domande sull'imponderabile, non lo so. Va bene, avvocato, c'è Mario Di Nolfi che vuole farle una domanda. Vai Mario. Il tema fondamentale che stiamo affrontando ora è il quadro giuridico della vicenda. E il tema centrale è, è tentato omicidio o sono lesioni personali aggravate? È qui il punto. Per tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, si prendono fino a 15 anni. Per lesioni personali aggravate non si va alla fine neanche in carcere dopo il processo perché la pena è sotto i tre anni. Questo è il punto. Allora io al di là di quello che ovviamente farà l'avvocato che cerca di rubricare da tentato omicidio a lesioni personali il tema che noi dobbiamo porre è che qui serve una pena esemplare e questo lo dico non giuridicamente ma lo dico da cittadino e da cittadino con una scala valoriale che ora chiede una condanna esemplare perché non è immaginabile attentare alla vita delle persone per motivazioni così folli. E siccome non è la prima volta che succede a Roma negli ultimi giorni fuori a una discoteca, al cube, sono passati con una macchina, hanno travolto uno. Qui siamo dentro una barbarie del nostro tempo che dobbiamo stigmatizzare chiaramente. Poi i processi succede questo. Al primo grado danno tentato omicidio, al secondo grado derubricano a lesioni aggravate. Questo non può accadere. In questo caso quel ragazzo è stato chiamato, si è voltato, attinto al corpo da tre colpi di pistola e qui bisogna dare chiaramente l'evidenza che questo è un tentato omicidio con le pene conseguenti. Questo è il punto che noi dobbiamo porre. Avvocato vuole replicare. Posso rispondere? Il suo mestiere sarà cercare di portare il tentato omicidio nel territorio delle lesioni personali aggravate. Questo è quello che sta accadendo e ve lo volevo chiarire in maniera che fosse evidente a tutti. Grazie Mario. Prego, avvocato. Allora, questo non sta accadendo perché per qualificare giuridicamente un fatto se il tentato omicidio ha lesioni gravissime per le quali non si prendono tre anni ma si prendono parecchi anni e si va in carcere non è un problema che dipende dai referti medici. Cioè se il ragazzo ha corso pericolo di vita perché è la parte attiva, le modalità dell'arma usata mi faccia finire, mi faccia finire, vuole parlare in maniera giuridica? Io le dico giuridicamente come stanno le cose. Ma questo è un tentato omicidio sancito dalla Cassazione perché i colpi sono diretti a un pezzaglio, sono più d'uno e mettono al pericolo di vita la persona. Questo è. Lei ha una sua idea rispettabilissima. È sancito da una sentenza di Cassazione che quello è tentato omicidio. Benissimo. Ma lei ha una idea rispettabilissima di questo fatto. Io ho la mia, poi c'è un giudice che giudica. Io ho un problema che ti ho, ci vorrebbe rispetto per chi giudica. Se una corte d'assise del rubrico è reato da volontari accolpose, perché probabilmente ha valutato un giudice in nome del popolo che quel fatto va giuridicamente inquadrato così. Io non so come finirà questa vicenda. Si fa un bersaglio e spara tre colpi e lo colpisce, lo manda in pericolo di vita, è tentato omicidio, avvocato. E lei lo sa benissimo perché la Cassazione è sancito. Le carte, la giustizia diranno ma non è questo il momento. Ma questo è il piano su cui voglio discutere con lei. Qui si comincia a mischiare la minestra e a cercare di far sì che questi ragazzi non paghino. E non deve accadere. La minestra io non la mischio. Io faccio un messiere che è garantito dalla Costituzione che è il diritto di difesa. Ma lo so benissimo, avvocato. Il diritto di difesa ne avranno bisogno tutti quelli che hanno un problema. Anch'io faccio il mio di mestiere, avvocato. E conosco i meccanismi e quindi provo a svelarli in maniera che sia chiaro quello che sta accadendo. Anche all'opinione pubblica. Quindi lei non ha fiducia nella magistratura perché se dice che i meccanismi sono... Non ha fiducia nella magistratura. Io ho fiducia nella magistratura. Va bene, avvocato. Quindi direi che ti cederà. Avvocato, lei pensi sempre se ci fosse stato suo figlio a subire... E' un quadro talmente drammatico che si fa fatica a raccontare. Mario, vuoi intervenire? Sì, è impressionante. Ha fatto bene Picozzi a stendere questo filo rosso di dolore che unisce il bambino di Carmagnola, il povero bambino ucciso, la bambina in ospedale ancora ricoverata, c'è ancora un'altra bambina in quella dimensione familiare. È davvero un filo di infanzia violata, purtroppo, devo dirlo, derivante anche dallo sfascio dell'idea di famiglia. Sono tutte storie in cui la famiglia salta per aria, il padre da una parte, la madre dall'altra. E questo inevitabilmente si riverbera sui figli. E poi si innescano anche nelle situazioni più tragiche le storie che stiamo raccontando. Io credo che la salvaguardia della dimensione del debole derivi sempre dalla salvaguardia del nucleo familiare originario. Questo è un elemento che più si continua a demolire, più espone i piccoli alle condizioni di dolore sempre, di difficoltà molto spesso e di tragedia in alcuni casi come questi, che sono davvero... non possono neanche essere raccontati. E se un magistrato dice che non si riesce ad arrivare in fondo alla lettura del verbale, è un magistrato che in quelle terre ne ha viste di ogni colore. Perché i dettagli erano talmente drammatici che... In tutta evidenza siamo davvero oltre l'immaginabile. Ecco Mario, scusate. E questo ci fa davvero rabbrividire. Voglio fare perché sono in fronte a fare questo passaggio da Luigi. Io con questo voglio chiudere. Ringrazio Pierluigi Diaco, Mario Adinolfi, Professor Picozzi e Flavia Cercato. È stata una pagina difficile quella...